ciao a tutti ragazzi dal vostro ice freedom e bentornati o benvenuti sul mio canale allora sniper ghost warrior contracts 2 oggi vi porto a video guida al trofeo scacco fugge dall'imboscata nella stanza del server senza farti individuare allora appena arrivati giù fate normale andate la interagite con l'unità centrale caricate il virus e poi salite di sopra vi trovate tutti i nemici davanti e compreso la tipa che ha la scheda che dobbiamo prendere fate fuori nemici o meno un po di piazza pulita ecco quella lì a tipo che ci interessa che ha la scheda tirate giù boom saltata la testa signorina poi nemici qua sotto sono facoltativi e potete anche andare direttamente a prendere la tessera volendo scendiamo appunto andiamo a prendere la tessera dalla tipa una volta presa la tessera andiamo su prendiamo l'ascensore direttamente la cosa da non fare che si potrebbe fare e tornare la all'unità centrale dove abbiamo caricato il virus e interagire con la tessera lì però facendo così annulliamo il trofeo per prendere trofeo dovete andare direttamente a prendere l'ascensore salite poco dopo boom eccolo qua trofeo è tutto ragazzi ci sentiamo nel prossimo video statemi bene ciao ragazzi